Ospitiamo, ancora buonasera cari telespettatori, sono 19.05, eccoci a conclusione del nostro arcobaleno, del nostro appuntamento quotidiano pomeridiano con un ospite molto importante che ci parlerà di un argomento del quale magari siamo tutti a digiuno e che non conosciamo. Allora lo saluto subito, buonasera siamo qui con Federico Bardi, membro del direttivo dell'associazione AISP, buonasera. Grazie, buonasera e grazie dell'invito. Allora, cominciamo introducendo quello che è l'argomento per tutti i nostri telespettatori. Parleremo stasera con il nostro ospite di Poland, che cos'è la Poland? Vi anticipo che è una malattia rara, ma lascerò che sia appunto il nostro ospite a entrare nel dettaglio, che cos'è la Poland? La Poland è una malattia rara che è riconosciuta anche dal Ministero della Sanità, si caratterizza da delle malformazioni e della mancanza delle problematiche muscoloscheletriche, del torace e degli arti superiori. Diciamo che dipende dai casi, dalla gravità. abbiamo la necessità di interventi chirurgici in fase in tenera età e possono esserci delle problematiche funzionali nei bambini appunto affetti da Poland e delle problematiche della struttura sia ossea che muscolare. Per questo c'è bisogno di vari interventi chirurgici nel portatore di Poland. la sindrome appunto si sviluppa nella fase di gestazione e fino ad oggi non è ancora conosciuta la causa, però si suppone che sia un problema di vascularizzazione che avviene durante la quarantasesesima settimana appunto di gestazione. Allora intanto vi ricordo 0587 804 915 e 0587 110 915 i numeri per intervenire se avete domande e approfondimenti da chiedere appunto sull'argomento. Abbiamo detto quindi che è una malattia dalla quale non ci si cura con delle medicine, sono soltanto interventi chirurgici che possono aiutare il malato a migliorare la sua condizione di vita perché abbiamo detto si parla di malformazioni talvolta addirittura mancanza di parti, di arti o appunto muscolatura ha fatto più riferimento lei. Quali sono gli obiettivi dell'associazione? Lei oggi è qui per rappresentarla, un'associazione tra l'altro molto giovane nata 11 anni fa però abbiamo detto che in Europa è tra le migliori. quali sono gli obiettivi della vostra associazione? Allora gli obiettivi dell'associazione innanzitutto sono di portare un supporto sia psicologico che durante il percorso clinico a tutte le famiglie che si trovano appunto con un portatore di Poland in casa. Questo è il nostro obiettivo principale. quindi di conseguenza cerchiamo di divulgare il più possibile quante più informazioni noi abbiamo sulla sindrome sia alle famiglie che ai clinici. Per questo abbiamo alcuni punti di eccellenza sparsi un po' in Italia dove noi come associazione per adesso ci facciamo riferimento però il nostro intento appunto è di arrivare a avere molti punti di eccellenza in tutta Italia per favorire le famiglie appunto perché ovviamente quando ci sono gli interventi chirurgici lo spostamento da parte delle famiglie soltanto in alcuni centri implica delle spese non indifferenti e quindi il nostro obiettivo è di portare tutta l'Italia bene o male a conoscere la Poland sia alle famiglie che ai clinici e medici specializzati. Senta, la sede dell'associazione è a Genova ma punti di intervento, cioè gli ospedali che si occupano di intervenire su questo tipo di problema sul territorio di Toscano c'è qualcosa o bisogna per forza andare a Genova? Allora per quanto riguarda la Toscana abbiamo l'ospedale Santa Chiara di Pisa con il quale avevamo fino a qualche anno fa una stretta collaborazione in cui venivano effettuati interventi di ricostruzione appunto di parti muscolari anche perché nello stesso ospedale diciamo vi è un chirurgo plastico specializzato appunto nella Poland che è il dottor Gianluca Gatti che fa anche parte oltretutto del comitato scientifico dell'associazione. Però diciamo negli ultimi anni è andato un po' a mancare la collaborazione non tanto per la disponibilità dei chirurghi e dei medici ma per la disponibilità fisica delle sale operatorie e quindi siamo purtroppo spesso costretti a dirottare alcuni pazienti se loro lo vogliono appunto in altri centri dove le liste di attesa per gli interventi chirurgici sono molto più brevi. Quindi attualmente il problema più grande che si è creato è un ingolfamento delle sale operatorie cioè le liste di attesa sono lunghissime? Sì, sì, sì. Per quanto riguarda Pisa sì, abbiamo un attimo questo problema e ovviamente la struttura ospedaliera come è giusto che sia dà la precedenza ai casi più gravi dove ci sono pericolo di vita e cose del genere. quindi diciamo noi come patologia in cui tranne tra virgolette i casi proprio più estremi in cui mancano proprio costole, muscolatura strutturale diciamo non siamo in pericolo di morte ecco. quindi siamo, non abbiamo la precedenza su certe cose via. Qual è la vita di un molato di Poland? Perché prima di arrivare all'intervento passano degli anni, non si può operare un bambino? Allora, diciamo è in funzione del grado di gravità che ha appunto la patologia. Nei casi in cui al bambino mancano parte delle dita o ha le dita diciamo unite che ha bisogno di interventi fin dalla tenera età per appunto il distaccamento delle dita e per cercare di ricostruire quanto meno, quanto più possibile una sorta di mano che nel corso della sua vita gli possa permettere di avere una funzionalità normale, tra virgolette. Poi ci sono i casi in cui mancano le costole e quindi in quei casi c'è bisogno anche lì fino da bambini di interventi chirurgici per l'impianto di protesi in titanio che vanno a supportare la mancanza delle costole. Questi diciamo sono i casi un po' più gravi. Gli altri casi dove mancano muscoli... In percentuale sono maggiori o minori? Le cose più gravi? No, diciamo sono più o meno uguali. Sì, sì, sì. Nel caso in cui mancano muscoli o parte di muscoli come il pettorale o il dorsale in quei casi diciamo gli interventi vengono fatti in età, diciamo dai 16 anni in su. Diciamo c'è una preparazione all'intervento nei casi in cui hanno bisogno di protesi che poi viene fatto, ai 18 anni viene fatto l'intervento vero e proprio. Quanto è importante in questi casi un supporto psicologico? Certo, il supporto psicologico è fondamentale, diciamo inizialmente fin dalla nascita è fondamentale per i genitori perché si trovano appunto a questa problematica che molto spesso non viene evidenziata nella fase della gestazione. E quindi si ritrovano all'improvviso a questa problematica e quindi c'è bisogno veramente di un supporto psicologico. Mentre per quanto riguarda poi diciamo con il passare degli anni il supporto psicologico ne ha bisogno il portatore di Poland. Quindi nell'adolescenza questo è importante appunto per un portatore avere un supporto psicologico. Per questo l'associazione diciamo nel suo organigramma prevede anche una figura che è lo psicologo che è sempre a disposizione appunto per consulti con chiunque ne abbia bisogno. Senta, se non ci fosse questa associazione che abbiamo detto è comunque molto giovane, ha 11 anni rispetto magari a altre associazioni che sono anche più inserite nel territorio e quindi sono anche più conosciute, quanto si riesce, cioè quanto l'associazione riesce a sopperire a delle mancanze del sistema sanitario? Se non ci fosse i malati riuscirebbero ad avere comunque questi supporti soprattutto psicologici all'inizio o si arriva all'intervento diretti? Ma molto spesso diciamo da noi arrivano persone che hanno diciamo sono affamate di informazioni perché appunto non hanno non hanno avuto un supporto sia psicologico che clinico dalle strutture sanitarie che sono presenti. Questo ovviamente non è, non accade in tutti i casi però diciamo molto spesso appunto abbiamo questa problematica di persone che hanno bisogno di informazioni anche a livello legislativo ci sono appunto per alcuni portatori dei diritti avendo a che fare appunto con un bambino che ha delle disabilità che purtroppo non gli sono stati riconosciuti. Ecco che anche in questo caso abbiamo appunto l'avvocato che diciamo dell'associazione che anche lui è sempre a disposizione per, ecco... Queste foto che stiamo vedendo queste sono? Queste foto, queste foto sono delle foto di vari convegni e eventi che abbiamo organizzato. Mi diceva prima tra i convegni ce n'è uno annuale il più importante forse? Sì, 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 sì. L'associazione praticamente fa, ogni anno fa un convegno alternandosi tra un convegno scientifico e un convegno con le famiglie. Il convegno scientifico è durante il quale in pratica ci sono tutti i clinici specializzati sulla sindrome di Pollan, quindi andiamo da archirurgo plastico, archirurgo toracico, al radiologo, alla psicologa, alla voca, tutti e praticamente durante questi convegni c'è la possibilità per tutti i portatori di fare delle visite complete e verificare appunto lo stato della malattia oppure verificare appunto che sia un caso di Pollan. Senta, queste foto sembrano più quelle di una grande famiglia. Sì, 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 sì. Queste... Ora, ecco, questa è la foto di un dei ospita a Genova all'ospedale Gaslini. Queste, in questa occasione qua, ci sono, diciamo, i bambini piccoli e qua viene certificata la sindrome di Pollan dai medici specializzati appunto per la sindrome. Anche in questa occasione vengono fatte varie visite sia con chirurgo toracico che chirurgo plastico. Poi, durante i convegni con le famiglie è proprio un clima di festa, nel senso, siccome abbiamo a che fare con tutta la famiglia, quindi dall'adulto che vuole informazioni e ha bisogno di informazioni per capire come muoversi, al bambino che non deve ovviamente subire la, come si dice, la parte seria del convegno. E quindi durante questi convegni organizziamo appunto la parte teorica per i genitori e la parte poi ludica per i bambini, dove facciamo dei corsi di manualità e dei corsi di improvvisazione teatrale. Ecco, in questi convegni i bambini sono sempre molto, si divertono sempre molto. I bambini riescono ad avere una vita diciamo normale? Abbiamo detto che ovviamente dipende dalla importanza che la sindrome ha su di loro, però mi chiedevo, essendo una cosa che colpisce i muscoli e parte dello scheletro, possono, in maggioranza riescono a fare sport o no? Sì, i bambini diciamo sempre tutto in funzione della gravità, comunque la maggior parte dei bambini sono tutti bambini che fanno sport o attività, diciamo ballo, danza, a volte anche un po' estremi, questi balli un po' estremi. E quindi diciamo come funzionalità, ovviamente un bambino che ha problematiche anche alla mano fin dalla nascita, se diciamo addestrato correttamente alla sua funzionalità, però riesce a far tutto con la mano che ha. Quindi diciamo che quasi tutti riescono a fare tutto. Ora ci sono alcune problematiche, bambini appunto che mancano le costole, sport magari di contatto violenti, quelli sono... Un po' sconsigliati. Certo, sono un po' sconsigliati, sì. E invece proprio attività per stimolare anche proprio l'articolazione della mano e quindi come viene in mente la musica, quindi l'utilizzo di strumenti musicali, ci sono corsi anche di questo tipo, riuscite a... No, allora, no, per quanto riguarda la musica sono stati fatti sempre durante i convegni, soltanto durante i convegni, dei laboratori appunto dove affrontavano la musica, però non, essendo alcuni bambini piccolini, non con gli strumenti, diciamo tra virgolette con degli strumenti un po' particolari, degli strumenti fatti a mano, con delle corde, con delle noci di cocco, diciamo tutti strumenti fatti a mano perché in modo e in maniera da sviluppare la loro pratica con la manualità, però farlo fare sempre in maniera divertita, perché questo ovviamente in questi laboratori cerchiamo appunto di educarli, però deve essere sempre un gioco, il bambino lo deve prendere sempre come un gioco. Senta, tornando invece al discorso di prima, abbiamo detto che l'associazione nasce anche per sopperire a delle mancanze di informazioni, cioè le persone arrivano affamate di informazioni perché spesso anche nelle strutture sanitarie ancora non si è preparati ad arrivare appunto a supportare le famiglie in questo senso. Io non l'ho detto in precedenza, ma lei è anche portatore di Poland. Come è cambiata la sua vita rispetto alla vita di chi e ora è affetto di Poland alla presenza dell'associazione? Io diciamo sono portatore di Poland e tra l'altro mi è stata diagnosticata non da giovanissimo perché dopo i 30 anni. Sinceramente faccio parte dell'associazione appunto anche perché voglio portare la mia esperienza e diciamo la mia adolescenza vissuta con questa sindrome voglio riportarla appunto a chi ancora deve passare questa età. Voglio magari potergli dare dei consigli, poter oltre che occuparmi della parte un po' più burocratica, un po' più tecnica, anche di questa parte emotiva che magari condivido con tutti questi bambini e questi giovani che durante i convegni, durante gli eventi che organizziamo. Senta, per tornare a quelle che sono le attività che, insomma, l'obiettivo principale che abbiamo oggi è fare capire l'importanza di questa associazione, l'AISP, ricordiamolo ancora una volta, quali sono? Perché per ora abbiamo parlato semplicemente di supporto alle famiglie, supporto ai malati e anche convegni all'interno dei quali si possono fare delle visite specialistiche. Da poco tempo però so che avete un progetto importante, quello della Biobank, in cosa consiste? Sì, quest'anno, il 7 febbraio, abbiamo firmato l'accordo con il network delle Biobank genetiche di Teleton, di cui io attualmente sono il referente per quanto riguarda AISP. Con questo accordo, in pratica, abbiamo creato la Biobank per materiale biologico di pazienti affetti da Poland e genitori. Per noi è stato molto importante perché la raccolta di questi campioni e la conservazione di questi campioni permette a Teleton di poter, diciamo, il metterli nel proprio circuito e renderli disponibili ai clinici di tutto il mondo. E quindi cerchiamo noi di fare più prelevi possibili di materiale biologico in modo e maniera da offrire alla comunità scientifica internazionale una massa critica di campioni dove poter fare la ricerca sulla Poland. Perché come abbiamo accennato all'inizio, forse è il caso di ricordarlo, il problema è che ancora non si riesce a capire dalle origini di questa malattia e, essendo una malattia rara, probabilmente anche la ricerca ha bisogno di fondi che vengono da privati per andare avanti. Questo concetto proprio della Biobanca, Bio nel senso che è una banca dove si depositano non soldi in questo caso, ma il materiale genetico che fa parte appunto dei genitori o dei malati veri e propri e quindi riuscire così a creare anche proprio una banca dati che serva per uno studio scientifico della malattia e magari si riesca a raggiungere una conoscenza più specifica e approfondita sull'argomento. Senta, ha detto che si può diagnosticare già dalla 42esima settimana, cioè si può diagnosticare con una diagnosi prenatale o si sa che è un problema che si verifica in quella settimana ma non si riesce a diagnosticarla prima della nascita? No, allora nella 46esima settimana si suppone che ci sia un problema, diciamo, di vascularizzazione del feto, però per adesso non è ancora certo. La diagnosi però è soltanto clinica, quindi tranne nei casi più gravi dove appunto tramite le ecografie si riesce a notare la mancanza degli arti della mano, delle dita, diciamo, per il resto no, è difficile una, diciamo, una diagnosi prenatale, diciamo. Altro invece obiettivo importante per l'associazione è quello della raccolta di fondi. Voi vivete solo esclusivamente attraverso la raccolta di fondi? Sì, sì. L'AISP appunto vive con la raccolta di fondi, per questo, diciamo, ci sono, pur avendo la sede a Genova, ci sono volontari in tutta Italia, quindi in tutta Italia ci sono costantemente, soprattutto ora nel periodo natalizio, mercatini di Natale dove l'AISP offre, previo a una donazione dei, diciamo, dei gadget dell'associazione e quindi appunto facciamo mercatini di Natale. Abbiamo fatto anche a Roma per due volte un concerto dove l'ultimo concerto di quest'anno c'era, diciamo, l'evento della serata era a Tonio Esposito che suonava, che suonava. Poi facciamo in alcuni a Genova, abbiamo fatto e sempre a Roma e a Napoli abbiamo fatto un'iniziativa a teatro con uno spettacolo per bambini. Comunque ecco, questi spettacoli, questi eventi un po' più grossi sono nati negli ultimi anni, quindi ci stiamo organizzando, vediamo se prossimamente faremo qualcosa anche in Toscana. Senta, in 11 anni siete riusciti a farvi conoscere su tutto il territorio o ancora i partecipanti all'associazione e quindi poi i donatori sono soltanto i malati o i familiari dei malati? No, i donatori abbiamo delle donazioni anche da parte di, oltre che dalle famiglie, anche da parte di privati che non hanno alcun legame con l'associazione e anche di aziende, piccole aziende che tramite i, a volte il porta a porta, a volte il passaparola, diciamo, arrivano queste donazioni. Ovviamente un aiuto importante è anche il 5x1000 che ci viene donato e poi niente, per il resto diciamo siamo ancora un'associazione, come diceva prima, giovane e quindi i grossi finanziatori per adesso sfortunatamente non ne abbiamo. Ma noi vi auguriamo di averne, siete un'associazione dei giovani, ma parlavamo prima di entrare in trasmissione dell'Europa, a livello europeo invece l'associazione italiana è tra quelle più avanti. Sì, pur essendo giovani diciamo siamo i più anziani rispetto alle altre associazioni europee. Quindi si guarda a questo modello, le altre associazioni vi hanno chiesto anche aiuto? Sì, sì, ci hanno chiesto aiuto perché c'è in previsione nel 2016 a Monaco l'associazione francese vorrebbe organizzare un convegno scientifico e quindi per questa organizzazione ci hanno chiesto a noi come associazione diciamo la quale ha una struttura un po' più ben definita rispetto alla loro di potergli dare una mano. È già avvenuto un primo incontro per cercare di definire alcuni aspetti e vediamo poi l'associazione francese come si muove. Altro appuntamento importante che dovevamo accennare è quello di gennaio a Milano. Perché? Che cos'è? Sì, a Milano ci sarà il primo Day Hospital alla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Fino ad oggi al nord il Day Hospital non era ancora stato organizzato ma grazie all'aiuto di alcuni clinici che collaborano con l'associazione un altro anno a gennaio, e il 17 gennaio finalmente siamo riusciti appunto ad organizzarlo. Durante questo Day Ospita appunto potranno venire tutti i portatori di Poland o presunti portatori di Poland per potersi far certificare la Poland o per capire lo stato di avanzamento della malattia. Senta, abbiamo parlato però, ho paura che i nostri spettatori li siano rimasti solo grandi nomi delle città, abbiamo parlato Genova, è vero che abbiamo sul territorio toscano abbiamo parlato di Pisa, abbiamo parlato però di Milano, iniziative a Napoli. Una famiglia affetta da Poland in una piccola, che ha un bambino, una bambina affetta da Poland che magari in una piccola provincia della Toscana, cosa può fare a chi si deve rivolgere? Allora, per quanto riguarda la Toscana e come tutte le altre paesi d'Italia, noi abbiamo un sito in internet che è www.sindromedipoland.org dove in pratica all'interno del sito potete trovare tutti i nominativi e le persone da contattare, perché abbiamo una persona incaricata dell'accettazione, chiunque abbia bisogno di avere informazioni sulla sindrome o di capire se è affetto da sindrome può contattare questa persona che la metterà in contatto con la struttura sanitaria più vicina possibile a lei che sia in grado di certificargli la Poland. Anche per avere il supporto psicologico di cui accennavamo prima, perché non avendo appunto solo la sede a Genova, uno si chiede io come faccio tutte le volte, devo andare a fare una seduta lì oppure avete anche collaborazioni anche con altri piccoli magari ospedali o centri assistenziali? No, per adesso no, diciamo abbiamo i nostri appunto clinici di riferimento che durante gli eventi sono a disposizione per colloqui individuali, sono a disposizione anche per via telefonica o via email, ovviamente può essere diciamo strutturato un percorso da poter fare poi nella propria zona con dei clinici di riferimento della zona. Va bene, la ringrazio, direi che abbiamo accennato più o meno a tutti quelli che sono gli argomenti di cui voleva parlare, mi corregga se sbaglio. Allora abbiamo detto quali sono le cose più importanti da ricapitolare per tutti, la biobanca, un progetto, una domanda invece che non ho fatto, un progetto al quale hanno partecipato tutti i malati o qualcuno è arrestio a partecipare a questo tipo di progetto? No, per quanto riguarda la biobanca no, diciamo che al 99% tutti partecipano anche perché ovviamente è un'opportunità per tutti di poter conservare il proprio materiale biologico nella biobanca a tempo indeterminato. Ovviamente la raccolta dei campioni biologici avviene gradualmente o durante gli interventi oppure noi come associazione abbiamo creato un'istruzione per poter fare i prelievi da casa propria con il proprio medico di cura, quindi abbiamo un accordo con un corriere, un abbonamento con un corriere per il trasporto di materiale biologico e noi forniamo alle famiglie della scatola con le provette per poter fare il prelievo e se tutto totalmente a spese dell'associazione possono tramite il nostro abbonamento spedire alla biobanca di Genova e conservarlo là. Allora, AISP, ricordiamolo ancora una volta, associazione che si occupa della sindrome di Poland, tra le ultime attività, la biobanca, la raccolta di fondi a favore di questa biobanca, a favore del supporto alle famiglie, sia il supporto psicologico che il supporto sanitario per i malati e appunto un contatto diretto con quelle che sono le realtà ospedaliere più grandi. La ringrazio del suo intervento, il tempo a disposizione ora è davvero finito, la saluto e arrivederci. Grazie a lei dell'invito.